Bello il tuo esperimento! Bio, Bio, stop, stop! Puoi fermarti e posso avere posto. Sto facendo... Guarda se è quella roba. Poi cosa abbiamo fatto? Ah, guarda, chat e bed. Mi serve questo. Ecco! Bio, no! Guarda che cosa! E' quella malata! Questa è quella malata, tienila! Ma andava quando l'ho messa! Quando? Veramente, guarda! Andava! No, non mi sembra bene! No, ma andava quando... Mettila in questi due buccheri che andava! Dai! Andava! Leo! Cambia la lampadina! Quella è rotta! Forse non va più, ma io ho visto che andava! Buda Bebo! Buda Bebo! Buda Bebo! Buda! 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 Invertila! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Che così? No, che io sto provando a fare solo una filetta! Questa è quella rotta! No, ce l'è in mano lì! Allora ti puoi fare quella... Torta! Oh oh! Giu Giu e Binta! Sta facendo... Sta andando intorno! Il Ciu Ciu! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Questo? E' come una candelina! Leo! Soffia! Ok, Leo! come fai a staccare come fare staccare il circuito senza staccare la lampadina staccando i fili